bambini fanno tanto bene le verdure quindi mangiate riposta ciao a tutti oggi facciamo le verdure al forno melanzane, pomaggio, zucchine, cipolla, pepernari, patate e pomodori ti amo iniziale vai avuta 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 no avuta avuta un po' qua una parte ora prendete le pezzuole e le mettete tutte in fila ok dai basta Miki non 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 Grazie a tutti. Ripete. Ora li occhiamo e dopo va a mettere il forno. La cociate prima con la carta e poi va via. Queste sono le verdure corpere. Nicky. Ho solo. Ciao. 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 Ciao.